Buona domenica 28 marzo. Gesù entra a Gelusalemme, ad orso di un asino, un re semplice, mite, un uomo in cammino che accompagna la costruzione di un regno, il regno di Dio, che non è fatto delle potenze, delle regalità mondane. La folla lo acclama, ma poi lo tradirà e sceglierà la mondanità, sceglierà la violenza della mondanità, sceglierà l'ingiustizia della legge formale degli occupanti e dell'ipocrisia, dei cultori della conservazione, del formalismo della legge e della indisponibilità a lasciarsi convertire dalla dimensione dell'amore. È giorno di festa che precede la morte, ma soprattutto la risurrezione, che non può eludere la questione della morte. E tutto questo viene annunciato attraverso una festa, gioiosa, all'insegna della pace e dell'amitezza. Questo è il senso, a mio parere, autentico di questa rappresentazione simbolica, non è un teatro, è realtà concreta, di annuncio di un regno di Dio che è all'insegna della povertà, dell'amitezza, dell'amore e della festa. E noi dobbiamo imparare a essere sempre festosi, non perché abbiamo posseduto o conquistato qualcosa che gratifichi la nostra sete di guadagno, di successo, ma semplicemente perché abbiamo scoperto la bellezza di vivere nella condizione di un amore che è intriso, di disponibilità all'incontro e alla vita comunitaria. Buona domenica a tutti.